Conto alla rovescia in vista della trasferta di Cosenza. Il Pescara ha svolto questa mattina la singola seduta di allenamento e domani si ritroverà sempre al mattino per la rifinitura prima di dirigersi verso la Calabria. Si ripartirà dal 4-3-3, il modulo base scelto da Zauri in questo inizio di stagione e su questo non ci sono dubbi, ma il tecnico di Pescina sta già lavorando all'alternativa, il 4-3-1-2, un po' perché può risultare utile a gara in corso, un po' perché tra qualche settimana potrebbe diventare il nuovo assetto del Delfino. La presenza di un giocatore come Galano, che può stare tra le linee, e quelle di tre centravanti come Tuminello, Brunori e Magnero, più un quarto come il primavera Borrelli, stanno spingendo a Zauri a lavorare su questo nuovo modulo, anche perché Brunori, per quanto si possa adattare al ruolo di esterno d'attacco, tale non è e le sue caratteristiche principali non vengono messe in risalto. 4-3-3 che invece ha funzionato con un esterno di ruolo quale Di Grazia, ma per quella zona del campo, Galano a parte, il Delfino ha tre giovani, Di Grazia, Cisco e Bocic, sì di talento ma da testare a lungo andare. Di Grazia è stato anche egli provato da trequartista al pari di Galano, ma per quel ruolo possono ben candidarsi anche Macin e Castanos. Intanto per la gara di Cosenza, Zauri recupera Fiorillo, che ha avuto un piccolo risentimento muscolare, negli ultimi giorni ha forzato poco, probabile forfè di Bruno, mancherà Balzano, anche se il suo infortunio non si è dimostrato grave e a breve tornerà a disposizione. E allora sarà Ciofani l'unica novità nell'undici titolare rispetto a quello che ha battuto il Fordenone. Con Bettella ancora alle prese con la contusione al piede, si ripartirà da Campagnaro e Scognamiglio al centro, Masciangelo a sinistra, Memuschai, Lex Palmiero e Macin in mezzo, Di Grazia, Tuminello e Galano in avanti. L'altro ex, Magnero, partirà dalla panchina. Molti di più gli ex sul fronte Silano. Il più fresco è Frank Canutè, passato in estate al Cosenza ma ancora di proprietà del Delfino, anche se la società calabrese ha il diritto di riscatto. Una sola stagione in biancazzurro per il difensore Raffaele Schiavi e l'attaccante uruguayano Jaime Baez, mentre sono prodotti nel settore giovanile gli esterni Angelo Corsi e Tommaso Dorazio. Partirà dalla panchina l'attaccante francese ex-Metz Emmanuel Rivière, 29enne, contrattualizzato per un anno da svincolato. Nelle 3-4-3 di Braglia dovrebbero essere Carretta, Baez e Pierini a comporre il trio offensivo.